E allora, vogliamo introdurre così la presentazione di questo libro e vi vado a leggere subito una pagina, un po' anche spiegandovi il perché di questa scelta. Chi sta cantando davvero non lo conosci, Irene alzò di poco il volume, Lamberto scosse la testa, un cantatore meraviglioso, anzi il cantautore Fabrizio De Andrè. La donna sparì in cucina, la porta del frigorifero cicolò, tornò con in mano un bicchiere colmo di succo di frutta, glielo porse senza dire nulla, Lamberto l'assaggiò e è la pere, il suo preferito. E qual è il titolo di questa canzone? Amico fragile. Questo è uno delle tante pagine belle di un libro che si chiama Dove si nascondono le rondine di cui andiamo a parlare subito con il suo autore, Enrico Losso, un esordio letterario molto atteso. Buon pomeriggio Enrico. Non ti sento bene, no, non mi sento proprio, anzi perché vedo che il microfono è ancora smutato. Buon pomeriggio, ecco adesso si è attivato, ho avuto qualche problema. Buon pomeriggio a tutti. Bene, buon pomeriggio Enrico. E allora, un bel libro, veramente complimenti, che ti trasporta in una dimensione particolare, in uno di quello che possiamo definirlo, no? Senz'altro il romanzo di formazione. Si può definire così. Innanzitutto la canzone di Apertura Amico fragile è stata veramente una colonna sonora durante la scrittura di questo libro. È un libro di formazione perché ci sono due personaggi principali, che sono due molto diversi fra loro, Lamberto e Irene. Un tredicenne di provincia e una brigatista rossa. Di Roma. E durante questo libro appunto c'è una crescita da parte di entrambi, si conoscono, c'è un'amicizia obliqua che nasce fra i due e entrambi si formeranno, diventeranno più ricchi con la loro conoscenza, attraverso la loro conoscenza. Come nasce l'idea di raccontare questa amicizia che, insomma, è anche difficile, no? Se uno vuole pensare che possa essere una cosa reale, dobbiamo subito dire che non lo è. Ho fatto un piccolo sforzo di fantasia, diciamo. La mia idea era proprio quella di far conoscere, mettere vicino due persone completamente diverse e l'ho immaginata in un posto diverso da quello che uno può immaginare come sfondo nell'attività del brigatismo rosso, cioè le grandi città metropolitane del nord. Ho scelto un piccolo paesino in cui questa brigatista si nasconde e per caso incontra appunto questo ragazzino e fra i due appunto nasce questa amicizia particolare. In realtà diciamo che appunto Alberto vive in un'età molto particolare, l'esordio diciamo del libro, l'inizio del libro parte proprio con il ricordo, no? Con un orologio, uno zenith, il ricordo del nonno perché lui aveva perso una figura importantissima per la sua crescita e quindi quando si trova questo personaggio che non è accomodante all'inizio soprattutto, no? Irene, anzi lo scansa naturalmente come è giusto che sia. In qualche modo lui ci si aggrappa invece proprio perché lei insegna un po' quello che gli insegnava il nonno, tant'è anche questo nonno che comunque non c'è più è un'altra delle figure importantissime nella formazione del protagonista, del ragazzo. Sicuramente l'immagine del nonno e qui devo aprire una piccola parentesi, c'è qualcosa di autobiografico perché anch'io ho avuto un nonno a cui ero molto affezionato e mi ha dato l'ispirazione appunto per questo personaggio. Sicuramente è una delle guide per Lamberto e Lamberto appunto ha bisogno diciamo di avere, vista l'età anche che sta 13 anni e la situazione, ha bisogno delle guide da seguire e una di queste sarà proprio la più strana questa brigatista. Il nonno è stato un ricordo che continua e ritorna per quasi tutto il romanzo ma lui ha bisogno anche di qualcun altro che lo faccia crescere e questo sarà stranamente una brigatista rossa. Anche perché lui è un bambino molto intelligente che ama studiare e quindi ha in qualche modo in un paesino così piccolo che è San Barbaso un ruolo anche sui generis rispetto ai suoi compagni che lo prendono in giro con una certa cattiveria quella tipica dei bambini quella in cui tutti ci possiamo ritrovare o nell'essere stati feriti o nell'aver ferito perché poi c'è da dire che a volte anche i ragazzi più monelli quando diventano grandi poi capiscono i propri errori o almeno ce lo auguriamo però insomma sono ruoli che si assumono nel corso dell'adolescenza e lui cerca di scappare da questi ruoli proprio con un'arma intelligente però quella appunto della conoscenza dello studio ma nello stesso tempo grazie proprio ad Irene con la quale naturalmente deve condividere questo segreto perché sin dalle prime pagine la loro relazione è chiara e si basa su un segreto. Infatti poi e soprattutto lui è il figlio di un carabiniere di un carabiniere molto severo tra l'altro non può dire niente non può dire niente quindi deve cercare di non svelare vuole che questo segreto tra virgolette rimanga solo tra lui ed Irene all'inizio ha anche il mezzo pensiero di divantarsi di condividerlo con gli altri lupi matti per diventare anche lui parte del gruppo lui ha bisogno di trovare una sua dimensione ma alla fine la strada che imbocca attraverso la conoscenza di Irene lo porterà a trovare una sua vera dimensione senza dover dipendere dagli altri. Ed è molto interessante appunto la trasformazione di cui tu parlavi perché questo lo si vede anche nel linguaggio diciamo che quello che colpisce all'inizio visto che si va a parlare di una storia che si trova nei primi anni 80 quindi ci sono anche molti riferimenti a quel periodo storico che vanno dalle pubblicità ai prodotti lo stesso telefono con la rotella insomma ci sono una serie di dettagli che ti riportano in quegli anni naturalmente è molto interessante anche dal punto di vista della comunicazione la descrizione delle Brigate Rosse per bocca del papà che è un carabiniere e quella poi per bocca di Irene che invece naturalmente è una brigadista Esatto, hanno ovviamente delle idee sulle Brigate Rosse completamente differenti perché il papà carabiniere lo sta combattendo con tutto se stesso e ovviamente è assolutamente contrario al pensiero e a quello che stanno facendo le Brigate Rosse il romanzo è ambientato nel 1983 quindi le Brigate Rosse si sono già sfaldate diciamo il nucleo storico si è già sfaldato e le Brigate Rosse si sono a loro volta divise in varie fazioni però rimangono comunque, rimane qualche irriduci e cerca di insegnare a suo modo a Lamberto quali sono i suoi ideali perché lei ha voluto fare parte appunto di questa fazione di queste Brigate Rosse e Lamberto l'ascolta e è affascinato da quello che sta dicendo lei anche se sa perfettamente dai racconti del padre che le Brigate Rosse ammazzano, gambizzano, fanno morti torturano, che è questo verbo che a lui l'ha molto colpito infatti perché è Irene che gli dice guarda che i poliziotti, le forze dell'ordine torturano i brigatisti per farli parlare e lui è molto molto colpito tant'è che chiede anche al padre a un certo punto proprio con, si sente forte degli insegnamenti di Irene dice al padre ma le forze dell'ordine torturano questi brigatisti è che il padre sbotta perché il padre è un uomo, un carabiniere tutto d'un pezzo e gli dice che le forze dell'ordine non torturano la gente quindi lui si trova un po' in mezzo fra questi due esempi, insegnamenti e cerca di barcamenarsi, insomma di trovare una propria a 13 anni quindi per quello che dice a fare una propria dimensione e un proprio ragionamento Perché hai scelto questo periodo storico e particolare insomma questo argomento, quello delle brigatistiche è anche complicato ad associare ai ragazzi di 13 anni infatti questo è scritto molto bene, devo dire, nel libro nella prima parte lui non ha proprio idea di che cosa sia siano i brigatisti ovviamente non c'era internet ovviamente si era dovuto informare andando in biblioteca e quindi ha cercato di studiare, di capire di cosa si trattasse però in effetti era un tema che forse magari i bambini di oggi sono un po' più sul pezzo perché sono più abituati ad avere una serie di informazioni senza filtri ma nei primi anni 80 era difficile, era complicato che un ragazzino di 13 anni delle scuole medie potesse avere delle nozioni di questo genere Sicuramente, io sono ritornato indietro nel tempo nel 1983 ero più piccolo di Lamberto perché avevo nove anni e ho pensato e mi piaceva soprattutto l'idea che in quel momento storico non esistessero cellulare, non esistesse internet perché rendeva appunto il fatto che il protagonista venisse a conoscenza di questa realtà così strana deflagrante come le Brigate Rosse e gli attentati attraverso, alla fine, attraverso ciò che gli raccontavano e quindi quello che gli racconta Irene quello che gli racconta il padre quello che può leggere sui giornali quello che può leggere sui libri del nonno e lui ha solo questi strumenti strumenti che adesso sono molto più amplificati giustamente come dicevi per i ragazzi di oggi e per questo, anche per questo sono contento che la storia si sia svolta diciamo nel 1983 dove è stata la parte più complicata nel raccontare questo processo del far capire a un bambino di 13 anni un ragazzino perché lui ci tiene e noi siamo fedeli anche ai caratteri dei protagonisti perché Lamberto tu lo ringrazia alla fine del libro dicendo ringrazio anche Lamberto che prima o poi incontrerò è un augurio che vi faccio è un augurio, certo e Lamberto lo precisa dire io non sono un bambino io ho 13 anni e quindi come si fa a raccontare qual è stata la parte più complicata di raccontare un bambino di 13 anni un ragazzino di 13 anni la cosa più complicata è stata sicuramente il punto in cui riesce a far breccia nell'animo diciamo di Irene senza però perdere quella sua ingenuità era difficile ho pensato a me a 13 anni come potevo essere a 13 anni ho cercato di fare uno sforzo perché adesso interrogare e fare domande ad un 13enne sarebbe stato fuorviante perché secondo me i 13 anni di adesso sono diversi dai 13 anni di allora allora ho fatto un po' di sforzo di memoria per poter riuscire a rendere il più credibile possibile verosimile possibile questo personaggio e la cosa difficile è proprio pensare a come poteva reagire questo ragazzino di fronte a messaggi così importanti così potenti senza risultare senza risultare troppo ingenuo o troppo scafato insomma ecco Beh lui si fa tante domande un bambino intelligente Lamberto insomma non è proprio un bambino che non si può nomare però è sempre un ragazzino di 13 anni quindi sullo sfondo per tornare a quelle che sono un po' riferimenti storici molto bello anche il continuo riferimento a Paolo Rossi al calcio c'è anche una parte in cui parla di questo con Irene fa sorridere perché dice non ti aspettavi che una ragazza amasse il calcio che non conoscesse il calcio infatti anche questo questa frase che dice Irene mi ha aiutato perché volevo far vedere anche Irene non soltanto come l'automa che ripete quello che ha imparato e i precetti del brigatismo ma è anche una donna una donna trentenne che ha avuto un passato che ha avuto i suoi amori che si trova il cospetto di un ragazzino e anche lei non sa che pesci pigliare a un certo punto e cerca cerca di si scioglie e alla fine riesce a far vedere una parte diciamo della donna che è e non e non soltanto della brigatista e appunto questa frase era per fargli capire appunto che insomma anche lei tifosa lo è e anche lei ha seguito i mondiali del 1982 assolutamente nessuno che poteva dimenticare no assolutamente a proposito di questi aspetti più da ragazzino c'è quello appunto dell'innamoramento che lui ha nei confronti di questa di questa ragazzina che però purtroppo si comporta come come si sono comportati almeno all'inizio si comporta come si sono comportati gli altri quindi è una grossa delusione eh sì è un po' si comporta perdonatemi i termini stronzette diciamo lo prende in giro la prende in giro l'età è quella si mette d'accordo con i suoi amici lo prende in giro però non riesce a capire come non riescono a capire a quell'età i ragazzi quanto può far male magari in un bambino che invece era tutto emozionato e contento di vederla era innamorato tra virgolette a suo modo e quello gli fa molto male insomma purtroppo quell'età è un'età bella ma terribile da terribile devo dire sì sì soprattutto anche perché i bambini cioè i ragazzini sanno essere terribili sicuramente c'è una passione che lui ha a proposito di manifestare questi suoi sentimenti ma lo fa anche nei confronti di Rani che è quella del disegno che è un altro aspetto interessante anche perché il titolo che ancora non abbiamo spiegato dove si nascondono le rondine insomma fa riferimento proprio alle rondine che è uno dei disegni che lui fa sì infatti io veramente sono innamorato da sempre di chi sa disegnare è una cosa che da sempre è un'arte che a me che mi colpisce particolarmente cioè vedere che una persona che sia un artista una persona che sa disegnare da un foglio bianco fa uscire un'immagine per me è qualcosa che mi mi piace da sempre una cosa che mi piace moltissimo io scarrocchio qualcosa ma non mi sono mai impegnato più di tanto e so che arriverei fino a un certo punto però però diciamo avevo proprio voglia di infilare una matita e una gomma in mano al protagonista del romanzo perché secondo me è un'arte che è molto bella e secondo me aiuta anche a esprimere aiuta le persone a esprimere quello che possono pensare e infatti Lamberto attraverso il disegno cerca di far emergere far venire a galla quelli che sono i sentimenti non ti sentiamo più abbiamo perso ti abbiamo perso un attimo Enrico sì ci sei però ti sentiamo un po' a tratti non so se per caso ti sei leggermente spessato no sempre fermo a questo posto mi sento sempre un pochino a tratti ecco adesso ti sentiamo non so allora mi dispiace non so se avete sentito tutto quello che avevo detto dell'ultima cosa se no riprendo tranquillamente se ce la ripeti perché abbiamo saltato un po' di parte sicuramente sicuramente dicevo che il disegno è un'arte che mi piace moltissimo e avevo proprio voglia di mettere in mano al protagonista della mia storia una matita una gomma perché attraverso questa quest'arte questo disegno Lamberto riesce a far emergere le sue passioni quello che prova quello che sente quello che vede attorno e era secondo me un bel modo per per farlo esprimere ecco sicuramente e anche il nonno e poi si ricollega il fatto che il nonno disegnava anche lui gli insegnava anche lui gli insegnava come disegnare insomma era un fil rouge che attraverso tutto quanto il romanzo quello del disegno sì infatti è uno è uno dei pezzi che che insomma sono molto molto belli e la legano anche ad Irene perché anche Irene disegna no? esatto anche Irene disegna e dipinge e anche lei lo fa con una certa quasi se ne vergogna con un po' di imbarazzo però visto che vede che Lamberto disegna allora è una chiave che la fa aprire un po' di più verso Lamberto a un certo punto addirittura gli fa vedere un quadro un dipinto che ha fatto nella soffitta del casolare dove si nasconde naturalmente a proposito di personaggi abbiamo parlato anche del papà e della mamma di Lamberto la mamma insomma abbastanza mamma in tutti i sensi quella con la quale lui riesce ad avere un po' più di comunicazione rispetto al al papà però le mamme di un tempo c'è quelle che la pensavano come i papà e quindi bisognava bisognava comunque le mamme di una volta quelle che non è che ti davano ragione a prescindere ti erano vicini ti sostenevano cercavano di essere un po' più da mediatrici tra le problematiche e magari il papà che era quello un po' più addetto al ruolo del cattivo però poi se papà non era d'accordo non era d'accordo nemmeno mamma quindi insomma bisognava quelle mamme che avevano sempre ragione i professori i maestri assolutamente avevano ragione il papà e si doveva fare come diceva il papà fare come diceva il papà sì è una di quelle mamme però è anche una mamma che vuole un bene dell'anima al figlio è preoccupata quando lo vede un po' perso un po' così lo capisce lo percepisce che c'è qualcosa che non che non quadra che non quadra e poi c'è un altro personaggio che è quello che viene anche lui preso in giro Mottorino invece che Ottorino il guardiano del cimitero eh sì anche lui è un'altra un'altra figura che non ha nulla questo è puramente di invenzione non ha nulla di diciamo di autobiografico questa figura però è una figura che è un personaggio che ho visto crescere durante tutta la narrazione è un personaggio che sta sullo sfondo però è molto importante sa dire nonostante l'aspetto nonostante i suoi tic nonostante sia un po' sembri un po' un po' sciatto in realtà le cose giuste le sa dire anche lui a Lamberto non c'è solo Irene anche lui non è non è stupido per nulla è una persona intelligente è una persona che che vuole anche lui bene a Lamberto e sicuramente Lamberto se non lo dimostra non ti sento più niente eccoci ora ti sento io sono sempre fermo io sono sempre fermo inizialmente Lamberto in merito a Torino inizialmente io ti ho perso qui quando hai detto inizialmente Lamberto non lo dimostra che ti vuole bene non lo dimostra anche se non lo sa dimostrare comunque Lamberto vuole bene a Torino alla fine per lui è una figura importante anche se è sullo sfondo insomma sì sì assolutamente è un un personaggio interessante anche quello di Lamberto anche perché è un personaggio che si presenta come qualcuno che insomma pur essendo adulto veniva preso in giro come veniva preso in giro Lamberto quindi alla fine erano nella loro diciamo pur differenza d'età pur nella differenza dei ruoli molto molto vicini invece perché dovevano affrontare queste queste prese in giro che in qualche modo insomma erano erano non cambiavano anche se lui era un adulto comunque si trovava ad affronteggiare questi cattivi di questi amici che lo stesso Torino appunto dice a me non è che mi piacciono tanto i tuoi amici infatti perché anche lui è una sorta di bullizzato usando un termine molto di moda adesso insomma e anche lui anche qui infatti è una cosa che gli accomuna il fatto comunque di dover difendersi da chi li vuole prendere in giro da chi si ferma all'apparenza e fermandoci all'apparenza vuole esercitare la propria falsa potenza ecco diciamo e questo e poi e poi c'è insomma tutta un'evoluzione dei personaggi non è che adesso lo vogliamo raccontare tutto assolutamente è comunque un libro assolutamente godibile non non troppo non troppo grande non so se esiste e questo te lo volevo chiedere come Radio dell'Unione Italiana c'è chi può vedere una versione audio già di questo libro è in previsione non non lo so ancora sinceramente io spero che lo sia a breve però non ho ancora la la notizia di questo mi piacerebbe molto anche perché io sono un amante degli audiolibri oltre che dei libri in carta quindi spero proprio che si faccia rapidamente che venga fatta insomma la versione audio è una domanda infatti che di solito facciamo sempre agli scrittori che insomma ci presentano i loro libri proprio il rapporto poi con l'ascolto con l'audiolibro tu quindi sei un fruitore sì ho scoperto e non da molto diciamo da qualche mese a questa parte il piacere mentre vado in auto perché mi sposto da Ferrara a Bologna al lavoro di ascoltare a quel cellulare un audiolibro e all'inizio ero un po' diffidente devo dire e invece mi sono proprio appassionato insomma anche perché se ritorno un po' alla fase del quando si è piccoli e ci si fa raccontare le storie insomma almeno mi dà questa impressione è sicuramente una compagnia molto piacevole nei viaggi almeno nei viaggi poi l'ascolto non solo nei viaggi ma principalmente in quelli insomma benissimo e allora a proposito questo è un libro che esce oggi in tutte le librerie insomma si può trovare dappertutto perché Garzanti distribuisce veramente dappertutto libro che consigliamo ci saranno delle presentazioni da qui a breve Rico a breve penso che la prossima settimana farò una presentazione con una libreria di online di Vittorio Veneto ma metterò sicuramente sui social la notizia e poi ci saranno altri incontri ancora da definirsi è tutto in divenire in questi giorni praticamente ma attraverso i social sicuramente darò notizia delle varie presentazioni insomma bene allora un grossissimo in bocca al lupo perché questo è un esordio diciamolo insomma infatti crepi crepi è una grande emozione bene è una grande emozione immagino infatti so che stai già lavorando ad un altro ad un altro lavoro sì lo sto architettando diciamo sono nella costruzione della della trama è un racconto proprio parla anche questo di un'amicizia un po' strana però l'ambientazione è diversa più di questo non riesco ancora a dire non si sa ancora è in fieri e quindi speriamo di leggerlo presto veramente grazie grazie per questa bella storia ad Enrico Losso e in bocca al lupo per questo bel libro dove si nascondono le rondini Garzanti editore grazie Enrico grazie mille grazie a tutti